E si aggrava la conta dei danni della tromba d'aria di venerdì scorso. Vediamo il servizio di Pietro Di Lazzaro. Mai visto una cosa del genere, mai in vita mia visto una cosa del genere. Per un quarto d'ora ero un muro bianco davanti, un muro di grandi. Io ero in vigna, ero a finire diciamo la raccolta perché a mezzo giorno chiaramente si smette. La squadra l'avevo per fortuna mandata via perché si stava vedendo e arrivava questo temporale. Si pensava fosse un temporale perché vatte la pesca e era una cosa di genere. Più delle parole dicono le immagini, come avviene sempre in caso di disastri climatici. La tromba d'aria che venerdì scorso ha investito la Toscana ha provocato tanti danni e tantissima paura in chi ci si è ritrovato dentro. Pochi minuti nei quali i capannoni, auto e mezzi sono stati duramente colpiti, colture e piante spazzate via. Col diretti Toscana parla di 20 minuti che hanno messo in ginocchio l'agricoltura regionale. 200 milioni di euro, i danni provocati dal maltempo alle coltivazioni toscane dall'inizio dell'anno. Qui vedete gli effetti del cono di distruzione che ha attraversato la regione il 19 settembre, quando dalla Lucchesia ha oltrepassato Firenze fino a raggiungere l'Aretino. Siamo andati a trovare degli agricoltori nelle loro realtà produttive nell'Empolese, fra Cerreto Guidi e Vinci, forse la zona maggiormente colpita dal ciclone. Marco e Sara Viviani hanno rispettivamente 31 e 26 anni. Nelle vigne e nell'oliveto di famiglia hanno investito il loro futuro. Questo credo che sia solo una parte del danno, cioè nel senso, questo è un esempio. È un danno che si ripercuoterà per i prossimi almeno 2-3 anni. Quest'anno probabilmente in bottiglio, ho una gamma di bottiglia, penso che quest'anno diverse tiete non verranno fatte, perché chiaramente il vino si fa con l'uva, se l'uva non c'è. Nelle sue vigne di stabia anche Flavio Petrucci aveva appena iniziato la vendemmia delle uve rosse. La tromba d'aria ha fatto il resto. Da una stima noi abbiamo perso 700-800 quintali di uva. Se non mi danno una mano io dovrò smettere perché non si può andare avanti così.